Ciao, sono Francesca e lavoro come CRM Manager da Wirex. Se hai un account Wirex e non sai da dove iniziare, questo video fa il caso tuo. Per aggiungere o creare un account, fai prima clic su Conti nel menu della schermata principale. Ti verranno mostrati tutti i conti disponibili nel tuo account Wirex. Per gestirli, fai clic su Gestisci. Qui puoi verificare i conti visibili e il loro ordine di visualizzazione. Nascondi i conti non in uso facendo clic sull'icona a forma di occhio accanto all'account. Per aggiungere un conto, fai semplicemente clic sul segno più. Quindi, seleziona la valuta del tuo nuovo conto. Puoi aggiungere tutte le valute che desideri, modificandole tutte le volte che è necessario. Tutti i nuovi conti aggiunti verranno visualizzati nella schermata Gestione account. Speriamo che questo video ti sia stato utile. Se ti è piaciuto, metti like qui sotto, iscriviti al nostro canale YouTube e lasciaci un commento con dei suggerimenti per il nostro prossimo video.